Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Prima di qualsiasi cosa Andatevi subito ad iscrivere al mio secondo canale Si chiama Roby, il link è qui sotto in descrizione E usciranno dei video pazzeschi I più grandi progetti fattibili su Youtube Li farò io sul secondo canale Di conseguenza andatevi subito ad iscrivere Now, adesso Oggi ragazzi Dani mi tirerà uno schiaffo, una pizza in faccia piano però, eh, piano Forte Questo lo leviamo innanzitutto Forte Allora, ogni morte ragazzi, nelle modalità che sceglierà lei Con i brawler che sceglierà lei Lei mi tirerà uno schiaffo in faccia Ho molta paura perché una con la manina un po' pesante Guardate la manina com'è pesante Guarda, guarda la mia com'è pesante Ecco, ecco, ecco Mi rendicherò, eh No, 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 scusa, scusa Scusami, scusa, scusa Allora ragazzi, se volete altre challenge con Dani Lasciate like, vi do 5 secondi per lasciare like Quindi 5, 4, 3, 2, 1 Spero per voi che avete lasciato like in tempo Se volete altre challenge con Dani Ecco, iniziamo subito Adesso praticamente devi far, devi scorrere questi brawler Ci sono di molto belli, di molto brutti, di molto forti, di molto poco forti Allora, mi ispira il nonnetto Il nonnetto? Il nonnetto Gelindo, gelindo Ti piace il nome gelindo? Gelindo, sì, ci sta Allora, secondo te che poteri può avere gelindo? Spara... Spara acqua, ghiaccio Tu sai che sei data davvero molto vicina? Perché spara a palle di neve Ah, vabbè, dai Ok, adesso dovrai selezionare una modalità in cui dovrò giocare Abbiamo arrappagemme, sopravvivenza, footbrawl, assedio, dominio e un altro footbrawl Ok, incominciamo con sopravvivenza Come incominciamo con sopravvivenza? E certo, devi cavare, devi sopravvivere, se no... Allora, devi sapere che sopravvivenza però posso morirci solo una volta Però in due, in due posso morire più volte Quindi andiamo così, con sopravvivenza in due Va bene, va bene, ci sta, ci sta, ci sta ragazzi Vediamo un pochettino quello che succede Sperando, sperando ragazzi in un compagno forte Allora, allora Ovviamente se qui muoio lo vedi molto facilmente Perché ovviamente ci metto 15 secondi per tornare in partita Certo Lo scopo della sopravvivenza secondo te qual è? Sopravvivere, morire per ultimo Esatto, bravissima ragazzi Cioè, non gioco a Fortnite però comunque già... Insomma ragazzi, è in gamba, è in gamba Perché mi hai preso? È in gamba, è in gamba Guarda cosa posso fare, posso fare l'emoticon di me che piango Però intanto non muoio quindi non ha senso farla Guarda vado, vado ipercattivo e ho fatto un'altra kill signori Ho fatto un'altra kill Attenzione, attenzione Vai, 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 vai Ma che schifo di partita Va beh, vabbè Mi preparo eh? no, come ti prepari? cioè, uno schiaffettino, una carrezzina no, no, no no, ma questo video chiudi il video, chiudi tutto siete pronti? io no 3, 2, 1 alla faccia dello schiaffo ragazzi, alla prossima morte ok, scegli un altro brawler e scegli bene perchè se qui ci muoio ragazzi, alla fine dovrò stare attentissimo perchè è una pazza è una pazza ragazzi ma che cos'è ci sono anche altri vestiti di eccesso si chiamano skin si chiamano allora è un genio è un genio è un genio malvagio grazie questa è la skin eugenio malvagio in realtà lui è così guarda quanto è carino sembra aladin eh esatto c'è e poi c'è anche lui pirata quale metto quale metto no no aladin ah il primo si si va bene è un genio aladin ragazzi questo lancia bomba che cosa fa e ora lo vedi lancia palle di energia mistiche che si suddividono in altre cinque palle ah ok va bene lancia palle va bene allora andiamo abbiamo ora è rimasto raffa gemme footbrawl assedio o dominio o un altro footbrawl ok assedio assedio ma perché mi fa perché ragazzi non ha senso comunque mi fa ancora male da prima raga cioè ma è rosso un po no ok si vede che lo devo dare più forte ma che sei impazzita ecco ora questo cappellino basta ok no è partita siamo impazzita siamo partiti ora ragazzi allora facciamo così siccome qui si può vincere o perdere facciamo che se perdo la partita mi da comunque due schiaffi per la sconfitta cioè perché io magari posso anche decidere di giocarmela male e quindi di non morirci giusto si si certo e di conseguenza io mi sono adesso ho messo questa regola che se in realtà se perdo no no il robot avversario perché ragazzi facciamo che cancelliamo con la regola che se perdo mi devi fare no 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 adesso hai dato questa idea dobbiamo attuare anzi sai che ti dico come no 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 la facciamo a padella come no che è a padella no 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 che significa padella ma sei impazzita no 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 ragazzi no 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 49 per cento almeno soffri tutto insieme è vero anche questo è vero anche questo è vero ma allora ragazzi io devo andare per forza a far fuori quel semino che sta andando di un fastidio che mamma mia semino beccati beccati questa kill sei scarso sei scarso per scarso ancora non muoio in questa partita e questo robot sarà il nostro tra 9 secondi noi faremo un robot molto più grosso del loro e niente in realtà andremo a spaccare la loro la loro basettina questo è lo scopo di assedio vedi robot livello 6 nostro e dobbiamo qua vai che lo prendo no non l'ho presa no mannaggia no 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 amichilario 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 un 300 di vita pochissimo pochissimo andiamo avanti andiamo avanti ragazzi facciamo più danni possibili è il nostro momento in realtà se colpisco un nemico farò dei colpi molto più больше giusto più forti non ho mostrato per morirci sopper morirci no si sono morto no 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 13 per cento no 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 che si che si eh dovresti tirare da città dovresti tirare una pizza e alla contra, è una traccia dovresti tirare si si ma è praticamente ogni morte tu mi dovresti tirare uno schiaccio e allora mi preparo eh già dovresti tirare in realtà vai mentre gioco però piano 1 3 2 1 aaaaaah ea , non ho perso ma non ho perso ma non ho perso sono mortissima Ma perché hai due? Perché hai due schiaffi? Ma no, no, non ho perso la partita Sì, sì, hai perso Non ho perso Sì, sì, siamo in battaglia 3, 2, 1 Ma non ho perso Ma no, raga, ma lei bara Ragazzi, no Ragazzi, mi ha fatto davvero male Mi ha fatto malissimo Non assicuro Ci sono pure morto di nuovo No, no, me ne hai già dato i due Hai fatto pa e pa e ho vinto la partita Ma basta, siamo a pari, siamo a posto Eh, per questa volta Eh no, scusami, tu mi hai dato due schiaffi in faccia Fortissimi Ragazzi, mi vibrano le orecchie per lo schiaffo che mi ha dato Vai, Dani Vai, scegli il terzo brawler Dai, una donna Ah, una donna Finalmente, ti siete ricordata che ci sono anche delle donne? Sì, sì Questa, con l'accelino Piper No, ragazzi, ma perché in ogni singolo video In cui devo fare le partite Mi scelgono sempre Piper che non lo sa usare Ma, cioè, io già ho le guacce totalmente È destino, è destino No, no, ma il destino di che? Adesso è rimasto Raffagemme, footbrawl, dominio Che cosa scegli? Dai, footbrawl Quale footbrawl? Ah, cambiano Eh, sì, sono due mappe totalmente differenti Oh, pinetina, mi sa simpatica Pinetina, ragazzi Andremo in pinetina 3, 2, 1 Andiamo in pinetina Ragazzi, avete visto che Piper sta con la mano così? È perché sa che mi ritiene lo schiaffo e dopo, non lo so, mi cadrà un band Comunque, adesso cambierò sul cozzetto Come sul cozzetto? Sì, sì, proprio qui, vedi? Sto calibrando già la potenza Ragazzi, da noi si usa che quando uno si taglia i capelli Li si dà il colpettino sul cozzetto Ma io non mi sono tagliato i capelli Eh, non fa niente, c'è abbastanza spazio Ok, no, sono morto Che! Ma no, 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 non sono morto Non sono morto, non sono morto No, 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 era un errore Era un errore, no, non sono morto Non sono morto, tranquilla, tranquilla Guarda che siamo a due, la terza non te la do Eh, che significhi? No, allora, c'è No, no, basta L'ha scritto Hai imbrogliato già per due volte Allora, l'ha scritto Sei stato eliminato Ma non era vero Cioè, era un bug, capito? Eh, eh, devo andare No, no, no 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 ragazzi sono fortissima sono fortissima ha pure segnato ragazzi ha pure segnato l'avversario adesso vado col nuovo gadget vai ok l'ho presa dai l'ho presa e poi che succede che aveva aveva e la copertura c'ho il collo rossissimo ragazzi lei ridere io non lo sento io non lo volevo dire però ho detto lui c'ho il collo che è un peperone signori ok sta lì ragazzi devo dare manforte sei riuscito ok spacco tutto spacco tutto raga spacco tutto spacco tutto spacco tutto vado di qua spacco tutto vado 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 dai no sono morto sono morto ok 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 adesso no 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 contesto a 2 perché perchécedo sono morto sì ma perché la due a 2 perché 2 perché ii compliance non posso vincere queste con le sue mirarda lui non 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 posso in giuposto come Morelli ragazzi mi piacciono queste sfide no bamba maattra non ale a sacco che dobbiamo farne di più dal centrale noi rivero may like richiesti inutile e inutile ma ma come ha fatto a parare quella parra e no se l'ho morto vai padella padella ragazzi 3 2 1 no ma no sono mortissima mamma mia che dolore ragazzi ci sta pure il segno no 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 ho pure perso c'è perdo coppe perdo la facoltà di sorridere ragazzi mi fanno malissimo le guance ma che cos'è oggi? che cos'è? meno male che erate di potere non è che se continui a parlare me ne dimentico dico di cosa? io non mi ricordo nulla guardami mi devi guardare mentre te lo do non ti guardo non ti guarderò più in faccia del nostro video no 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 mi guarda negli occhi no come? mica negli scappi negli occhi 3 guardami 3 2 1 ma questa non è una pizza cioè questa non lo so che cacchio è date un nome un hashtag cioè io devo secondo me avvicinarmi alla telecamera perchè qua mi sento tutto rosso in faccia ce l'ho un hashtag hashtag schiaffopadella hashtag schiaffopadella qui sotto nei commenti anzi inventatevi un vostro una vostra tipologia di schiaffo e scrivete qui sotto nei commenti vediamo che si inventa quella più strana che poi io farò a lei no non è vero non è vero non è vero non è vero a lei sono i bacini esatto esatto a lei sono i bacini dico in senso ragazzi se questo video vi piace vi lascio subito un bel like e iscrivetevi al canale sul secondo canale vi raccomando link in descrizione andatemi subito a seguire perchè sarà per uscire il primo video pazzesco con lei oltretutto con lei e con ospiti iper super mega speciali ma poi lo scoprirete mi raccomando like seguitemi sia su instagram che su tiktok e lei ragazzi su instagram si chiama hashtag dani cagnano seguitela il link lo troverete anche suo in descrizione e le conoscere magari dopo il suo video ciao